A cadere musicale Lucana abbiamo con noi il mitico Antonio Pisani bravo ma che bel sorriso Antonio Pisani c'è già il nome di uno famoso fra trent'anni ecco a voi Antonio Pisani Ti suona a te come? Non è un nome comune, suona bene Che cosa suoni qui in accademia? Chitarra classica Da quanto tempo suoni questa chitarra classica? Da un anno circa Ti piace? Non ci sta seguendo nessuno? Sì Tutto sommato? Ti annoi quando devi fare gli esercizi a casa? No Grida più forte che ci stai? No non mi annoio Ti piace? Sì Senti ma da grande dell'immagine ci avrai un gruppo musicale? Forse Vi chiamerete, come vi chiamerete? Da un nome The Pisani Soul Band Una roba del genere, ti costa? Pensaci, date un'idea Se diventi famoso mi dai diritti sul nome Non è che sia assoluto granché però in qualche modo Che classe frequenti? E' finito agosto, facevo la punta di vent'anni Si? Ma è finita la scuola da ieri Da ieri Da ieri è finita Cioè già è passato a remoto, bastano 24 ore per scordarti dalla scuola Cosa farai? No prima me La prima me La tua materia preferita? Italiano Bene Il tuo amichetto preferito come si chiama? Giuseppe Gianni Allora lo salutiamo Ciao Michele Allora No scherzo E' bene 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 Vabbè vogliamo salutare tutti quelli che ti conoscono Compreso Giuseppe Bernabèi Sì Lo salutiamo e diciamo alla famiglia qualcosa Ciao Perfetto grazie Antonio Grazie